Ciao Camel, come lo stai? In Italia è arrivato il momento della sostituzione... Scusa, è complicata questa parola, c'è il proprio, eh? Della sostituzione etnica che nasce alle pescetti. Sì, l'ha detto Lolo Brigida. No, Gina, Francesco Lolo Brigida. Come che io? Era il ministro dell'agricoltura italiana. L'hanno messo all'agricoltura perché semina cazzate ovunque. Ti giuro, l'ha detto lui, ti ho inviato pure il video. Guarda un po'. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Lolo Brigida, per l'amici LOL. E infatti ci hanno fatto pure la trasmissione, la conosci? No, Camel, quella è Subraim. LOL. Chi ride fuori. Questo è invece chi fa ride dentro. Al governo, però. Sì. Secondo me l'hanno fatto ministro dell'agricoltura perché sotto braccia rubata l'agricoltura. Sì. Che dice, Camel? Vuoi sapere qual è il vero motivo perché lui fa il ministro? Sì. Per merito, certo. Infatti lui ha il merito di essere cognato della Meloni. Lui fa il prosciutto. E insieme fanno prosciutto e meloni. In Italia i ministri per risolvere i problemi parlano di sostituzione... Massa quanto è complicata questa parola, Camel. Di sostituzione etnica. Quando secondo me basterebbe sostituire i ministri. Eh, lo sai i problemi che risolvemo così? Sì. Io la soluzione ce l'ho, eh. Hanno catturato l'orso in Trentino. Non sanno dove metterlo. Ma facciamo lo ministro. E lo lubricità lo mandiamo in letargo e lo mandiamo alle vecchiette, no? Sì. Ma poi... Tu dà paura della sostituzione etnica italiana. Ma di quale sostituzione hanno paura? Della parte italiana araba. Questa è quella che ti piace a Renzi, eh. La parte greca dei celti, normanni, svevi e drussi. La razza italiana è un mix di razze. È un po' come l'insalata di riso. Ognuno dentro ci mette quello che cazzo gli pare. Ma forse LOL intendeva che vuole sostituire i lavoratori migranti con i lavoratori italiani. Ma è perfetto! Sì, ci potevamo andare gli italiani a raccogliere i pomodori e noi andiamo a lavorare al ministero. Che ne dici? Hai ragione, Camel. Se in Italia non c'è un parente stretto, al ministero non ti ci mandano. No, non sto a parlare di l'olobrecità. No! Oppure potevamo andare gli italiani a fare le batanti e noi andiamo a giocare a ballone. Hai ragione, Camel. È già così, oh. In Italia, se sei straniero e sai giocare a ballone, la cittadinanza te la danno subito. Io me lo immagino il Borro Salvini che va allo stadio per divare il Milan che ha soltanto un italiano in campo e lui si mette a strillare prima gli italiani. Se lo guardano tutti male, ma nasce l'efficio. E chi lo dice a questi, che il Milan in semifinale di Champions senza le sostituzioni etniche si, ci arrivava col caso. Grazie a tutti.